Il basket pugliese resta a bocca asciutta. Stecca la prima di campionato anche la C-Basket Ostuni, che contro la Giorgio Tesigroup Pistoia perde per 85 a 67. 18 punti di differenza che la dicono tutta sull'andamento della gara, iniziata con equilibrio nonostante giallo blu di coach Marcelletti, lamentassero l'assenza di Rossetti e schierassero Williams non del tutto ripresosi dal problema alla gamba. La chiave della gara è sin da subito messa in evidenza dalla scarsa concentrazione al tiro dell'assi basket, che schierato a zona regala agli avversari molti palloni sotto canestro. Il primo quarto si chiude 26 a 21 con il quintetto della città bianca, che limita i danni con un ottimo di diegro, che poi chiuderà la partita con 18 punti personali. Nel secondo quarto Pistoia tira fuori dal cilindro una ottima prestazione, con il supporto di Ardi, che, coadiuvato da Jones, Mattis e Iango, mette in riga gli avversari, chiudendo alla sirena sul 45-36 con le squadre che rientrano negli spogliatoi. I nove punti di vantaggio si dilatano notevolmente nel corso del terzo quarto, durante il quale Ostuni mette a segno solo nove punti contro i sedici dei padroni di casa. La squadra ostunese sembra diversa da quella grintosa e brillante vista nel precampionato, tranne qualche sprazzo del solito Iurevicius e la conferma della bravura di Marino. Ma l'impatto con la Lega 2 può servire solo a cementare l'esperienza e la voglia di riscatto degli uomini di coach Marcelletti. E' nell'ultimo quarto che si vede infatti la reazione di Ostuni, che nonostante il risultato sia compromesso, non demorde e riesce nella realizzazione di 22 punti in totale, superata da Pistoia solo di due punti. Finisce 85 a 67. Venerdì 7 ottobre si torna al Palapentassuglia in diretta Rai contro la New Basket Brindisi. In quell'occasione i due punti in palio varranno doppio.